È normale che quando uno si allena si allena per essere pronto a giocare dall'inizio, quindi per me non cambia nulla questa settimana rispetto a quelle scorse. Per me non mi cambia, il mio impegno è quello costantemente, anche perché io penso che se uno pensa di non giocare è meglio che smetta, o comunque quando viene chiamato in causa non può dare quello che deve dare. Credo come tutti i miei compagni ci alleniamo per giocare dall'inizio, poi il normale si gioca in undici, sono le scelte da fare. Io mi sento la fiducia di tutti qui, quindi ogni domenica mi aspetto di giocare. È più una cosa che sta al di fuori, il fatto di giocare in casa o giocare fuori casa. Non è che a noi calciatori, al di là del fatto che sicuramente il pubblico può dare una mano, perché comunque sia uno stadietto così che se hai tutti lì vicino aiuta. Però comunque sia a livello psicologico, non è una grossa differenza, quindi le partite le giochiamo sempre nella stessa maniera. È chiaro che la statistica però dice il contrario. E quindi perché no, sicuramente arriverà, come le statistiche sono fatte per essere smentite, prima o poi bisognerà anche tornare a cambiare la direzione in questo senso. Grazie. Grazie. Grazie.